e benvenuti amici della legge italica a samurai wario che vi parla oggi siamo qua con la legione di asgaro di asgore siamo al sesto episodio e dobbiamo fare un culo tanto ai nani normali quindi direi che iniziamo a fare le cose che i veri nani del caos dovranno fare sacrificio e rivelazione ritenendo la fusione tra ingegneria nani che stregoneria un abominio nella peggior specie i nani d'uccidente hanno inviato una schiera di guerrieri contro di te adesso aspetto di vedere se qua quando si carica scompare tutto altrimenti finiamo di leggere altrimenti voi mettete in pausa che tanto dovreste riuscire a leggere comunque la storia è noi adesso li attacchiamo per trovare le reliquie allora 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 vediamo cos'è se l'unità di vanguardia possono essere scherzo che cos'è sto rettangolino? che cos'è sto rettangolino? perchè c'è un altro qua? queste mi sa che sono le zone dei rinforzi quindi tu mi stai dicendo che avranno tre ondate di rinforzo e io so già la loro posizione perchè se è così io mi metto qua io guardo tanto posso visto che l'intelligenza artificiale ha le sue unità normali noi abbiamo un esercito di buffer qua io mando la mia fanteria e basta alla carica no? i centauri li tengo nelle retrovie con i nostri cannoni vediamo di sparare i balestrieri e se non arriva niente da lì tanto meglio se invece arriva qualcosa siamo già pronti ad accoglierli direi che è un buon compromesso tra non fare niente e tutto il resto qua stanno sparando si vogliono sparare a a Drasua cosa volete sparare a Drasua? dai su amici andiamo su quel maledettissimo ok ok dai dai qua hanno una linea si aspetteremo di avere abbastanza per una martellata ok speriamo qua e speriamo qua rinforzi nanici oddio avevo predetto i rinforzi non ci credo girocotteri prima ok i girocotteri direi che sono andati giù adesso potete far fuori chi cacchio ne avete voglia sparate a piacimento ok quindi se quelli erano rinforzi sono rinforzi anche questo e questo ok speriamo la caglia rancori e Drasua tu devi prendere il volo come se non avesse mai volato prima via 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 perché di sicuro ci saranno dei mio dio ci stiamo massacrando da soli ma sparare ai minatori no sparate a questi dai ce la potete fare ok alcuni minatori provano a farsi strada altre vittime da sacrificare ci credo anch'io ok girocotteri via solamente uno di questi e via a sparare contro sti minatori acqua li abbiamo fatti fuori senza nemmeno pensarci quindi ci portiamo qua più o meno Visto che i nemici da lì arriveranno Anzi Già che ci siamo Ci mettiamo loro Qua E loro qua dietro che gli sparano Un sacco di munizioni Solo che questi due li dobbiamo tirare fuori dal Esatto Oh porca miseria Questi sono quelli con le blasting charges sin da subito Non va bene Non va bene per niente E c'è un girobombardiere Insomma Non è andata da dio Non è proprio andata da dio Vabbè tiriamoci dentro con i nostri Mio dio Intelligenza artificiale ha imparato a fare le bombing run Questa non è una cosa bella Per niente Ok dai vediamo di farlo andare giù Qua abbiamo sparato dentro E li abbiamo già fatti andare in rotta Quindi ottimo Molto bene Dovremmo aver vinto A meno che non ci siano altri rinforzi Che devono arrivare No Fantastico Allora 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 Ne abbiamo fatti fuori Non è stato niente di difficile Devo dire la verità È stato molto carino e coccoloso Vediamo Adesso che cosa succede con la storia Dovrebbero rivelarci le posizioni delle 4 reliquie Speriamo di non dover andare in culonia Più 1 capacità per spade di ferro infernali Mi piace molto Abbiamo preso anche il fabbro da guerra Abbiamo incontrato i nani del caos Non siamo noi in nani del caos Giusto per curiosità Ok usa 4 reliquie dei progenitori Per alimentare la grande trivella Reliquie usate 0 su 4 C'è un intruso straniero No non c'è un intruso straniero Ok Il sacrificio Ci sono state rivelate 8 reliquie Al posto che 4 E andiamo a vederle Allora Ce n'è una relativamente vicina qua A Caracazorna Ok Una Qua Dove non c'è niente Una qua Una a Casteldrakenhof Una qua Una a Caragdum Una è proprio una quest battle E un'altra quest battle Allora 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 Questa è una strada lunga 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 da fare Per arrivare fino a questa Ma secondo me ce la possiamo fare Quello che voglio fare io E prendere Reliquie dei progenitori di Tungni minore Reliquie dei progenitori di Valaya maggiore Questa potrebbe essere utile anche da Tenersela Perché possiamo usarla contro Per la trivella Oppure tenerla Questa potrebbe essere interessante Tenersela Quindi in tal caso sarebbe Reliquie di Tungni Reliquie di Scavor Quella di Morgrim E quella di Gazul Quindi penso che queste Quattro reliquie minori Andranno a Costituire Quelli della trivella E Vista la rivelazione Che abbiamo appena avuto Direi che Drasio ha bisogno di una migliore armata Allora Due guardie infernali E una spada di ferro E già che ci siamo Due Cadai della stirpe di fuoco Molto bene E tu invece puoi cominciare A dichiarare guerra A Grisus E per il momento Oddio Lo prendiamo come avamposto E ci facciamo Lavorio Molto bene Poi penso che La guardia di granito Sarà interessante Davvero Un'unità Con alto DPS Tempesta Gordaz Vediamo Schivare Qua il nostro Eroe Vediamo Il veterano Sfragiato Qua Addestramento Di tiro Perché Blunderbuss Fireglaive Di sicuro Ne avranno Buon uso Io spero che voi Siete in guerra Con L'armata di Zhar Interessante Siete in una posizione Interessante Ma vediamo Possiamo passare Il turno E Denteoro Ci comincerà A mandare contro Qualcuno Ma Non dovrebbe Essere niente Di che Noi quando Avremo finito Di reclutare Secondo me Ci mettiamo Quattro turni Con Drasua Ci cominciamo A spostare A dove Sì adesso Tre Quindi per il momento L'unica nostra Preoccupazione Sarà Avvicinarci Alla Beta Tetra Ok Ci avviciniamo Malarezza Tetra Qua Non miglioriamo Niente Perché sono Tutte cose Che potrebbero Essere soggette Molto velocemente A essere Ricatturate Dal nostro Avversario Non stiamo Producendo Tantissimi Materiali Grezi Quindi È qua Che abbiamo Necessità Di costruire Ok Potenzialmente Edificio Non è disponibile Qua possiamo Utilizzarlo Per fare Dei soldi E possiamo Mandare Un convoglio Ok Il convoglio Comandante Dei mostri Lo mandiamo Da qualche Altra parte Che non sia La foresta Per prenderci Una Sbadellata E mezza Di soldi Volario Però ci siamo Già stati Sono curioso Di andare O al fiordo Dei troll Oppure a Grungzint Grungzint Non ci siamo Mai stati Ok Grungzint Sia Perfetto Una volta Fatto questo Passiamo il turno Vediamo che cosa Ok Dente oro Gli ammazzatori In zona Zatan in nero È lì che si sta Facendo la guerra Con altri nani Del caos Non si fa Zatan Già siamo in pochi Noi Se poi Oddio Ok Sì Diamo via un po' Di carico Per prendere una bestia Corazza del destino Sarà interessante Darla alle persone Giuste dopo E qua Niente di che Ci prendiamo la vittoria Di misura E stavolta Facciamo una fabbrica Voglio semplicemente Cominciare a Pensare A come tenerle Queste regioni Quindi una fabbrica Qua per esempio Sarebbe perfetta E facciamo Sparare O Addosso ai cretini Che abilità è Evoca delle unità Di tagliagore goblin Assolutamente Sì La voglio La voglio La voglio Ok La letta tetra Ora è nostra Qua Oh mio dio 60 Abbiamo qualcosa Che si costruisce Alla svelta Che ci dà Dei soldi Ok Il prossimo turno Qua Migliora Ci darà 200 Qua Facciamo Questo E ok Dovremmo farcele Qua Gli faremo Produrre Dei soldi Minance Migliorate Ah Capacità Di trasporto Allora Qua perché Possiamo Prendere un seggio Che seggio è Questo qua Che aumenta La velocità Di ricarica A me non Interessa Molto E la velocità Di ricerca Scusate Non di ricarica La velocità Di ricarica Sì L'avrei preso Quella di ricerca Non è interessante Questa qua Immagino che sia Una di quelle armate Che gira Questo esercito Ha combattuto Non ancora Quindi Ci prendiamo I tagliagole Tutta la vita E adesso Ricordiamoci Che vogliamo Arrivare Qua Quindi la strada Che dobbiamo Seguire È questa Quindi dobbiamo Andare alla Grande sala Di Grisus Anche perché Prima c'è Da andare a Prendere la reliquia Minore Che è qua Il caracasorno Ok Quindi Grande sala Di Grisus Picco tranquillo Caracasorno E poi saliamo Se nel frattempo Poi Sblocchiamo Degli altri Regimenti Della fama Li aggiungiamo Qua però Non mi sembra Che ci siano Grandi problemi E Ok Scorte di munizioni Intenziamento edificio Ah sì Assolutamente Ok Tanto qua Abbiamo 800 lavoratori In più Direi che Sfruttiamo La costruzione Rapida Per Spendere poi 1700 Per farci Dreadquake E ora Abbiamo La caserma Infernale Che può essere Costruita Oppure Il tempio Di Asciut Tempio di Asciut Che adesso Che adesso Cominciamo a A prepararci Per costruire Perché Di sicuro È Una cosa Molto molto Importante Da avere Ci da 10 di influenza Ogni turno E questo 10 di influenza Ogni turno Potrebbe essere La differenza Tra avere Un seggio Oppure Farcelo Rubare Cripta Qua intanto Si muove Qua possiamo Decidere Se avere Degli ogre Oppure No Non c'ho Li sordi Per arruolarli È aumentata La capacità Delle guardie Infernali E noi Cominciamo A muoverci A sud Perché Con questi Nani Dobbiamo Dirci due parole Ci spostiamo Anche verso La sala Di Grisus Tanto se Perdiamo Degli insediamenti Per noi Non è un gran Problema E possiamo Ora prendere Un altro Di questi E un'evocazione Dei Kadai Per tutti i nostri eserciti Sinceramente Non dico di no Ora Passiamo al turno Non so se state vedendo Anche voi Dei problemi enormi Con il flickering Ma io ce li ho In questo momento Quindi non so Come risolverli Ok Cioè Ci hanno fregato Uno dei No non ce l'hanno fregato Ce l'hanno fregato Ce l'hanno fregato Quello Vabbò Zatan Ce l'ha con noi Io tra un po' Gli dichiaro guerra Ve lo dico Mi sta sul cazzo Io gli sto sul cazzo Ci stiamo sul cazzo Dicendo Andiamo alla grande Sala di Grisus E perché non vedere Come funziona Questo esercito Di Di tagliagole Obgoblin Che abbiamo Praticamente A nostra disposizione Dobbiamo anche Provarlo Nonostante tutto Abbiamo solamente Tre Tre unità Di nani Del caos Tutto il resto Sono Obgoblin E la cosa mi piace Tantissimo Voglio vedere Come funziona Se funziona discretamente Se fa schifo Probabilmente Più probabile Che no Che faccia schifo Però sapete È un esercito Tematico A me gli eserciti Tematici Sono un gran fan Ora Ci mettiamo Di qua Così Partiamo Già In In range Poi mettiamo Davanti Quelli che lanciano I coltellini Dietro La seconda fila Poi dopo Blazing Beards Altri nani Del caos Tu stai da solo Senza problemi Per ora Il nostro stregone È appiedato Ma vedrete che Prima o poi Si disappiederà E avrà Delle belle montature Anche lui Ah sì Voi dovete diventare Sette E Vi andare con Gordaz Allora Potrebbe essere Potrebbe essere Un investimento Un po' troppo Un po' inutile Vabbè che adesso Stiamo sparando Attraverso Il Attraverso La foresta Però Non mi sembra Che questi Hobgoblin Facciano Troppi danni Ecco Insomma 25% Con una salva Senza infamia Nelode Gordaz Vai a dargli Una mano Evochiamo Gli altri Ah a parte Che non abbiamo Neancora I bonus Di Gordaz Per le unità Da tiro Quindi Quello di sicuro Sarà il fattore decisivo Siete più veloci Degli ogre Ne sono sicuro Ah però Stanno venendo Curati A più 08 Al secondo Questo è Un bel Un bel bonus Allora dire Che carichiamo Qua tanto Non abbiamo Moltissimo Da Da perdere Qua A parte Gordaz Che però Sai cosa ti dico Evoca loro Li facciamo fuori Con due vocazioni Sti ogre qua Tanto vogliamo Provare tutta L'armata Proprio Ci mandiamo Anche Gordaz Guarda come vanno Giù sti ogre E stanno andando giù Da tiro Da dio Sti tori ogre Gli facciamo fuori Ci siamo fatti prendere Maledizione Allora L'unico qua che Mi interessa qualcosa Sarà Gordaz Quindi facciamo fare Giro attorno Puoi tornare indietro Qualbe il Taurus Ha fatto quello che doveva fare I tori Gli facciamo sparare Dai nostri ragazzoni Qua con l'arco E le frecce Mi piacciono molto Gli hobgoblin Così Allora Ritirata Vediamo di ritirarci Da un altro lato Rispetto a dove arrivano Tutti i coltellini Che lanciano i nostri Gordaz Gordaz è ancora vivo Per qualche miracolo Sti maniaci Che lanciano i coltellini Guarda quanti ce ne sono Per terra Ok dai Allora Allora Mandiamo Gordaz Dentro così Perché così Si prenderà lui Il malus Delle trappole A quanto pare No A quanto pare Non esiste Il malus Delle trappole A vero Li abbiamo fatti Forrest Di Noblar E anche gli ogre Diciamo che non stanno andando Molto bene Però mi piace Sto esercito più mobile Rispetto a quelli Che abbiamo usato Finora Che sono più statici E' un esercito Molto più mobile Pochi nani del caos Tanta chaff E' quello che ci possiamo permettere Mettiamola così Perché a prendere un esercito Più forte L'avrei potuto fare Però Si appoveri come la merda Quindi questo ci vuole Visto che vogliamo Prenderle a reliquio Il più in fretta possibile In modo a finire la campagna In un tempo decente Questi tempi di caricamento Sono sempre Una rottura di balle clamorosa Però è stata una battaglia Molto carina Ok Stavolta Facciamo l'avamposto La sala di Grisus La leviamo Abbiamo distrutto una fazione Ibramacarne Di sicuro non l'abbiamo distrutta noi Ok Abbiamo guadagnato un grado Per il grande Taurus Cosa dobbiamo essere? Grado 10 Ok Ci siamo quasi E adesso andiamo Picco tranquillo E poi Caracasorna Tu ti sei già mosso Sto turno? Assolutamente no Guarda qua Sono saltati fuori Degli oggetti a caso Andiamo a vedere Se c'è qualcosa Che possiamo fondere No Quindi Via Il nostro impero Si sta reggendo Abbastanza bene Zatan ha appena preso La torre di Gorgoth No No L'ha appena assediata E poi l'ha presa Ok Fermi tutti La sacra armata Di Tepok Tanto sappiamo Che qua è in zona E non si sposta Quindi La teniamo lì Queste qua saranno Le rogarmis Un giro di Crichta E di un altro Ok Spostiamoci Al picco tranquillo E Caracasorna Solamente 11 Perfetto Solamente 11 unità Di guarnigione E non sono Nemmeno Tanto forti È perfetto Ovviamente Non stiamo Dagnando tanto Come soldi Siamo Molto Molto Lì Lì Potrei Prima di tutto Fare questo E come seconda cosa Portare questa A livello 3 In modo da poter fare qua Le cose giuste Ok Passiamo al turno Drasio al prossimo turno Penso che punterà direttamente All'insediamento Minore Piromanti Di Arg Flux Interessante Qua facciamo Allora Deposito d'armi Metallo vivente Sacrifici Del sangue bollente Perché noi In teoria Dovremmo essere Una fazione Che usa Molti Kadai Qua c'è Il culto Di Morgrim E qua c'è Casteldraknoth Ok Direi che In teoria Non abbiamo Nemmeno bisogno Di essere in guerra Con loro Però Dobbiamo Far fuori Il culto Di Morgrim Che Si trova Qua In Drasio Comincia A viaggiare In quella direzione All'esercito Di sedere Tonante Sicuro Ci pensiamo Dopo Ci pensiamo Dopo A far fuori Il sedere Tonante Qua facciamo Una fabbrica Magari Non questo E ci costruiamo Quello Appunto Per fare I soldi L'unico Che ha aumentato Di rango È Gordas A cui diamo Sparare Comunque Qua l'invasione Dei territori Di Grisus Non è stata Tanto difficile Secondo me Perché qua C'è una Si ci sono Dei demoni Che l'hanno Bloccato Perché Grisus È lì E qua c'è Gringor Ma molto Piacere Non Vorrei Vederla In realtà Se ne va Da qualche Altra Parte Se ne va Da qualche Altra Parte Signor Gringor Perle Di ferro Sede Rettonante Buongiorno A quanto Tempo Non ci Si vede Eh sì Gringor Ha deciso Che Gli sta Sul Cazzo Il nostro Buon Amico Ma a me Va Benissimo Così Perché E adesso Ci spostiamo A sud E andiamo A Attaccare Karakazor Un orco Sciamano Che possiamo Prendere E dare In dotazione Se non Eccolo qua Inutante No Però Tutore Con voglio Sì E anche Questo In caso Ci trovassimo Con delle Guardie Infernali Prima o Poi Abbiamo Due Bacchette Proibite Che non Vanno Bene Poi c'è La Spezza Vita Che ci Dà Rigenerazione Beh allora Direi che è Molto Meglio Della Spada E La Discordia Che Van Prima O L'arma Dossidiana Una Delle Due Era No Decisamente Non Mi Piace Per Niente E Ok Faccine Demoniache Continuiamo a migliorare I kadai E al picco Tranquillo Costruiamo Delle mura Difensive In modo che Se ci vogliono Attaccare Ci devono Attaccare Lì Diamo un'occhiata Ai Ok Questo qua Deve essere Il culto Di Morgrim E porca Miseria Quanti Sono E Soprattutto Con Quanta Esperienza Non sono Sicuro Di Volerli Fare Fuori Ora Però Ci Tocca Ora 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 Per il Tempio Di Aschut Cosa Sono 1300 Ancora Quindi Dobbiamo Stare Zitti Zitti E Aspettare Di Avere 1300 Dobbiamo Però Mandare Un Nuovo Convoglio Direi Che Mandiamo Quello Con Resistenza Metallica E si Le armi Armi Per soldi Oppure Armi Per schiavi Una dei due Armi Per soldi La inviamo Lì E speriamo Di far Bene Ok Questo Baradin Sarà Il nostro Obiettivo Alla Fucina Infernale Mi Dicono Che Possiamo Dare Attributo Immune Agli Effetti Di Contatto E Resistenza Fisica 10% A Tutte Le Nostre Unità Ci Penserò Sicuramente Quando Ci Avvicineremo Alla Battaglia Finale Uh Battaglia Tra Gringor E Grisus Sono curioso Di sapere Chi vince Mi sa Mi sa Che Gringor Si è ritirato E Grisus Quindi Ha vinto Tra virgolette Ma per tecnicismi Per tecnicismi No Non andare A Carac Oh mio dio Dobbiamo attaccare Caracasorni Più in fretta Possibile Occulto I morgrim No No Dovevi Avvicinarti Maledetto Vabbè Stanno scappando Da noi Ci hanno visti Scappano Vabbè Non si Almeno Non si muovono Di tanto Guardiamo Il lato Positivo E Ok Caracasorn Chiariamo Guerra Gringor Ok Ha già Due brecce Nelle mura Però Un esercito Che di sicuro In un combattimento Uno contro Uno ci fa Un culo Così Quindi aspettiamo Che escano Loro Ma aspettiamo Tranquillamente Che escano Loro Poi Le fiamme Sono 18-20 La magia Quindi prendiamo Il martello Infernale Che ne costa Solo Tra virgolette 16 Togliamo Inesorabile E Passiamo Il turno Grisus 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 Vorrà andare Al picco Tranquillo Oppure venire giù Ad attaccarci Mentre stiamo Assediando Gringor Non lo so Non lo so Gringor Ci attacca Ma La vinciamo Tranquillamente E facciamo Una torre A livello Due Assolutamente Si Ci facciamo Una bella Torre A livello Due E il culto Di morgrim Scappa Adesso Possiamo Usare La tavoletta Per la Tribella Ma La tavoletta Sinceramente Non mi piace Molto Cioè Possiamo Tenercela Usarla Per la Tribella Visto Che usarla Per la Tribella Ci da 7 Di riserve Dei 20 Della magia Per ogni Turno Facciamo Di sicuro Quella Inoltre Il nostro Eroe Ha sconfitto Gringor E quindi Ora Si ritrova Con il grande Tauros Gli diamo Le fiamme I figli Della montagna Sono state Distrutti E Lo scisma Della E Le fiamme Il lavoro di bindere il demonio con il primo Dwarf relicio, lo despoilando completamente, prima di metterlo in un pollo di un grande grigio di Heshut. Il tipo desecrazione può essere rimandata da Dwarfs dell'Ostro, ma era loro che costavano il primo stone. ok quindi qua c'è stata spiegata la storia dell'origine dei nani del caos con i nostri nani i nani del caos che erano stati che sono stati abbandonati dai progenitori dei nani moderni quindi non siete stati molto carini i nani moderni devo dire la verità ad aver abbandonato i nani del caos però così è noi adesso ci spostiamo e andiamo ad attaccare il culto di morgrim per prendere la seconda reliquia ma io direi che per questo episodio noi abbiamo finito ci vediamo al prossimo episodio per prendere la seconda reliquia ciao a tutti ragazzi